Da ieri fino a lunedì prossimo, 12 ottobre, Arcevia ospiterà l'Esercitazione Europea di Protezione Civile. L'esercitazione è dedicata a testare la capacità di intervento del Meccanismo Europeo di Protezione Civile, uno strumento dell'Unione Europea istituito per rispondere tempestivamente e in maniera efficace alle emergenze che si verificano su un territorio interno o esterno all'Unione attraverso la condivisione delle risorse di tutti gli Stati membri. Il Comune di Arcevia diventa dunque teatro delle operazioni di tre moduli sanitari provenienti da Spagna, Estonia e Francia, di una struttura per l'assistenza tecnico-logistica messa a disposizione dalla Lituania e Lettonia e di osservatori esperti provenienti da numerosi paesi europei, tra cui l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Germania, l'Olanda, l'Italia e la Grecia. Lo scenario è quello di un evento sismico di magnitudo 7.2 ipotizzato in un paese fittizio che coinvolge anche l'aeroporto di Falconara, il Porto e la Prefettura di Ancona, la Regione Marche e gli ospedali di Ancona, Fabriano e Senigallia. Si tratta della prima esercitazione europea dedicata esclusivamente a testare moduli sanitari d'emergenza con una durata di quattro giorni complessivi di cui 48 ore di attività operativa senza stop. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale alla protezione civile Angelo Sciapichetti. Una bella iniziativa che riconosce il ruolo anche a livello nazionale del sistema di protezione civile marchigiano. Un sistema di protezione civile che è un fiore all'occhiello per la Regione Marche. Sapete e sappiamo che la protezione civile nazionale è una di quelle organizzazioni di cui dobbiamo essere orgogliosi nel mondo quindi essere stati scelti a livello nazionale per una esercitazione europea di questo genere credo che sia un fatto importante di cui dobbiamo anche essere orgogliosi ma dobbiamo soprattutto dar merito atto ai volontari della protezione civile non solo ma ai volontari della Croce Rossa, delle Ampas, di tutti quelli che parteciperanno alle forze dell'ordine, al sistema sanitario e soprattutto ai responsabili dell'organizzazione della protezione civile marchigiana.